Ivana Marazzova, la modella entra come ultima finalista del Grande Fratello VIP 2 e punta la vittoria finale dopo aver resistito a diverse nomination. Il mistero del pipistrello rapito 5 dicembre 2017 a Gigi, 5 dicembre 2017, 1.06 redazione Ivana Marazzova, possibile vincitrice del Grande Fratello VIP 2 e terminata sul podio l'avventura del Grande Fratello VIP per Ivana Marazzova, la modella cieca uscita al penultimo televoto della finalissima del reality di Canale 5, saranno dunque Daniele Bossari e Luca Onestini a giocarsi la vittoria finale. Per Ivana la soddisfazione di essere stata la prima delle ragazze, restando in gara anche più di personaggi maggiormente accreditati di lei alla vigilia, su tutte l'amica Giulia dell'Hellis, uscita al televoto precedente. Ivana ha chiuso la sua esperienza salutando le sue amiche modelle nella casa e subendo la buon'aria presa in giro della Jalapas Band che ha preso di mira la sua singolare passione per il collutorio, non solo da utilizzare per l'igiene orale ma anche, da bere. Modella dai modi molto semplici e alla mano, per Ivana i rapporti più speciali all'interno della casa sono stati sicuramente quelli con Giulia e con Luca Onestini, ma ora c'è da festeggiare col fidanzato e la famiglia un'avventura finita con un più che onorevole terzo posto, a Gigi, di Fabio Belli e lei dedica di AMCIZI a Giulia dell'Hellis in attesa di scoprire chi sarà il vincitore del Grande Fratello VIP 2017. Ivana Marazzova ha già portato a casa la sua vittoria ovvero l'amicizia di Giulia dell'Hellis. Le due ragazze si sono unite tantissimo in quasi tre mesi trascorsi nella casa più spiata d'Italia e, in queste ultime ore, Ivana ha ricevuto la splendida dichiarazione d'affetto dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia racconta di aver cominciato a guardare Ivana con occhi diversi una sera a Tristopoli quando erano divisi ancora in due squadre. Ivana stava dando da mangiare ed una falene Giulia è rimasta affascinata dal suo modo di essere. Poi la fidanzata di Andrea d'amante continua mi spaventava l'idea di dormire senza una spalla e non pensavo mai che mi sarebbe capitato quello che invece mi è capitato con te. Una persona diversissima da me che dà da mangiare alle falene. Sei una donna meravigliosa, spero di avere una figlia come te, di essere come te un giorno. Per me sei la leggerezza, la libertà, sono contentissima di averti incontrato. Aggiornamento di Stella di Benedetto, è lei scelta di sfidare Cristiano Malgioglio. L'ultima diretta del grande fratello VIP2 ha messo in luce le capacità di ragionamento di Ivana Marazzova. La modella si è ritrovata infatti a dover affrontare il televoto, il secondo di tutta la sua esperienza nelle reality, a causa dei noti giochi della produzione per mettere in difficoltà i concorrenti e per alimentare la suspense. Andando contro quanto stabilito con Giulia Delellis in precedenza, Ivana ha deciso di sfidare in modo diretto Cristiano Malgioglio e di permettere a Luca Onestini e Raffaello Tonon di proseguire la loro avventura senza doversi dividere proprio ad un passo dalla finale. L'ex corteggiatrice e amica della modella ha sollevato non poche obiezioni per questa sua scelta, convinta che si fosse esposta troppo al rischio. Il calcolo di Ivana invece si è rivelato alla fine corretto ed è riuscita a stracciare il paroliere italiano, considerato nella casa uno dei più forti e vittima in realtà nelle ultime settimane delle sue stesse strategie. La modella è riuscita così a stupire ancora una volta il pubblico grazie alla sua capacità di analisi, gettando allo stesso tempo i telespettatori in un grande dilemma possibile che la Marazzova avesse previsto. La propria salvezza e il mistero del rapimento del pipistrello sono ormai trascorsi gli ultimi giorni di GF VIP 2 e Ivana Marazzova ha mantenuto fede alla sua personalità, lanciandosi in ricette per gli altri concorrenti e giochi divertenti. L'abbiamo vista in particolare subire il rapimento del suo amato pipistrello, il pupazzetto che ha sempre tenuto con sé nelle ore notturne e misteriosamente sottratto da un altro concorrente. Ivana è diventata così protagonista in diretta di diverse giornate nel reality, in cui i VIP rimasti nella casa si sono lanciati in teorie sul possibile rapitore, solo dopo diverse ore la modella ha creduto di poter riabbracciare il pipistrello, dato un nuovo messaggio che le indicava la presenza del pupazzetto in piscina. L'amara sorpresa è stata trovare invece al suo posto una candela messa sott'acqua, che ha fatto arrabbiare non poco Ivana. A quel punto tuttavia i giochi erano ormai scoperti ed è stato confermato che il rapitore misterioso non era altri che Luca Onestini, che a quanto pare ha voluto vendicarsi delle scarpe che la modella gli aveva nascosto in precedenza. Il ritrovamento tuttavia non è stato così semplice, anche se Ivana ha alternato risate a finte arrabbiature. Clicca qui per rivedere il ritrovamento del pipistrello di Ivana Marazzova, arrivata alla finale del grande fratello VIP 2, sarà lei il vincitore in merito di Ivana Marazzova e di certo di aver stravolto ogni previsione del pubblico del GF VIP 2017. La modella cieca è stata considerata fin dall'inizio come la sfavorita di tutto il gruppo di concorrenti e in tante settimane non solo è riuscita ad evitare qualsiasi nomination, fatta eccezione per quella iniziale, ma anche a conquistare il cuore dei telespettatori. Il suo modo di parlare e la sua sincerità, spesso mista ad un modo ingenuo di vedere le cose, hanno colpito molto il pubblico da casa, che alla fine è deciso di darle l'accesso alla finale. Di certo ha giocato un ruolo significativo la sua vicinanza con Giulia Delellis, che pur di salvarla ha messo in moto le sue famigerate bambine, la precedente diretta potrebbe in realtà aver rivelato un particolare di Ivana rimasto finora nascosto, ovvero la capacità di capire al volo in quale situazione si trova. La sua decisione di andare al televoto con Cristiano Malgioglio ha infatti più chiavi di lettura, che spaziano dal freddo calcolo fino alla fedeltà verso Luca Onestini e Raffaello Tonon. In apparenza sembra infatti che la modella abbia preferito sacrificare se stessa pur di permettere agli Oneston di proseguire il loro percorso, ma non è detto che non abbia invece tenuto in considerazione la popolarità scemata del paroliere, che nelle ultime puntate non aveva più ottenuto il consenso da parte del pubblico, diritti d'autore e riproduzione riservata. Potrebbe interessarti.